Giovanni Battista vive una vita umile nella più austera povertà, nonostante sia il più grande fra i nati da donna. Per noi è un esempio, un mentore, una vera e propria guida e punto di riferimento. Quali sono le nostre guide, i nostri punti di riferimento, i nostri idoli? Da questo dipende la nostra crescita spirituale. Se seguiamo ideali non conformi alla nostra identità cristiana siamo vicini al precipizio dell'autoinganno. Meditiamo sui nostri ideali, sui motivi delle nostre decisioni. Agiamo secondo la parola di Dio, oppure seguiamo un trend, la moda, il mondo, i suoi inganni. Preghiamo oggi in particolare per tutti coloro che si lasciano ingannare dai falsi profeti, che seguono gli influencer del mondo, che si perdono nella notte più buia del giorno, affinché sappiano volgere lo sguardo verso la vera luce e ascoltare la voce dello Spirito.